Benevento si riscopre romantica per San Valentino, la città delle streghe festeggia l'amore con un bacio collettivo nel giorno della festa degli innamorati, un flash mob di San Valentino nella centralissima Piazza Roma con un maxi bacio collettivo da record. Stasera è una forma di corrisponsione di amorosi sensi, non soltanto politici evidentemente, ma anche dal punto di vista umano, di un'umanità recuperata, di un rapporto che vive di un'intensità molto forte, nel mio desiderio rispetto alla propria sposa, in questo caso la propria fidanzata, la città di Benevento, di dargli il meglio di se stesso, perché credo che c'è una bella differenza. C'è uno scrittore cattolico, Marite, che ha detto che la differenza tra l'amore e l'amicizia è l'amore il dono di ciò che si è, nel senso anche se partecipa all'altre due difficoltà, l'amicizia il dono di ciò che si ha, dà il meglio di quello che hai, mentre invece questo essere legati, diciamo, nella buona cattiva sorte, come si dice normalmente, nel gergo della vulgata popolare, mi pare che sia una cosa molto molto importante. Stasera è un modo di vivere attraverso il cioccolato, il bascio, una dimensione che è un po' diversa, che qua non si era mai verificata e qui intendiamo di attestare Benevento su una lunghezza d'onda che è un po' al di là della cinta muraria tipica nostra.